Lei è la nostra luce, la nostra stella cometa, maestro, lei è il più bello del pianeta! E alla fine tu dovete fare... Allora, attenzione, io la proviamo, eh! Un po' tranquillo, ma perché? Questo vuole dire qualcosa, eh? No, no. Vuole dire qualcosa altro? Perché? Allora, dietro, attenzione, cerchiamo di andare un attimo a tempo scandito. Allora, tra due e uno, via! Noi a lei invidiamo l'eterna fedeltà, lei è la nostra luce, la nostra stella cometa, maestro, lei è il più bello del pianeta! Bravissimo! Questo lo faremo dopo la sigla di apertura, ok?